Musica Signore e signori, buonasera e partiamo subito con una tragica notizia di cronaca. Non riguarda direttamente il territorio di cui ci occupiamo come TG Parmese, ma una notizia così importante che merita di essere condivisa con tutti, perché parla della scomparsa di un giovane a causa di un incendio stradale che è capitato sulle zone più alte del nostro Appennino, in Alta Valtaro. Vediamo cosa è successo nel servizio che segue. Erano da poco passate le 6.30 questa mattina, mercoledì 4 dicembre, quando un incidente stradale è avvenuto a Piane di Carniglia, nel comune di Bedogna, circa 500 metri sul livello del mare, mentre attraversava il ponte che da Piane di Carniglia portava verso Santa Maria del Taro, una persona ha notato la balaustra di protuizione del ponte di Velta. Si è affacciata e ha notato un'auto completamente immersa nell'acqua. I fari erano ancora accesi. Immediata era telefonata la centrale operativa 118 Miglioves, che ha fatto scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto sono state inviate l'ambulanza della Crocella Rossa di Bedogna, l'automedica ai vigili del fuoco e la volante dei carabinieri di Borgotaro. In poco tempo sono andati ad arma forte anche quelli del soccorso alpino, ma visto che non potevano far nulla di particolare, sono rientrati. Sul posto la centrale operativa ha inviato anche l'elisoccorso da Parma, che però non ha potuto fare nulla se non lasciare il posto poi all'intervento e all'arrivo dell'elicottero da Bologna dei vigili del fuoco. Perché? Non si è potuto intervenire in nessun modo sino all'arrivo dei sommozzatori dei vigili del fuoco portati sul posto di un elicottero. L'acqua era troppo gelida e impetuosa e soprattutto alta. Si suppone che l'incidente possa essere dovuto ad una delle prime agilate che hanno reso sdruccelevole il manto stradale della strada provinciale 359R. Come si può vedere anche dalle immagini, l'auto probabilmente stava arrivando da Monte. I segni sulla strada e la piegatura della Malaustra sembrano indicare che abbia invaso la corsia opposta e se volata nel fiume. All'arrivo dei sommozzatori dei vigili del fuoco, si sono impegnati subito nell'estrazione della persona dall'autobicolo. Grande l'impegno dei professionisti del soccorso che appena contattati dai colleghi di Borgotaro hanno fatto levare in cielo un elicottero che è partito da Bologna con la squadra dei sommozzatori ed è giunto sul posto iniziando le operazioni come diciamo di soccorso. Potete vedere dalle immagini che seguono sia l'operazione di soccorso che l'elicottero dei vigili del fuoco, giunto a pochi metri dal luogo dell'impatto. Nonostante l'imponente dispiegamento di forze, purtroppo non c'è stato nulla da fare per la persona alla guida dell'autoveicolo che ha volato nelle gelide acque del fiume Taro. I vigili del fuoco, intervenuti in forza con sommozzatori, elicotteri e gru, non hanno potuto far altro che rimuovere il corpo del giovane dall'abitacolo e consegnarlo all'autorità giudiziaria. La persona coinvolta è un giovane di 20 anni residente in zona. Come vedete, tra i primi di intervenire ci sono sempre le assistenze pubbliche e la Croce Rossa, come in questo caso quella di Bedogna, perché sono i più vicini a tutti noi. Ed è davvero triste che i volontari di queste associazioni entrino a far parte della lotta politica tra diverse correnti, proprio come sembra, ma speriamo che non sia così, sta succedendo a Fornovo. Una associazione importante, la Croce Verde Fornovese, che tanto fa per tutti, che non merita di essere tirata per la giacchetta, né da uno né dall'altro. Chiarezza sulla sede Avis dell'ex sindaco Emanuela Grenti. Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale a Fornovo Taro, del 29 novembre scorso, su un'interrogazione delle minoranze in merito all'attuale sede Avis di Fornovo, in progetto di trasferirsi nella nuova sede degli ex edifici US, per effetto di una delibera della giunta dell'ex sindaco del marzo scorso, è emerso che l'atto amministrativo di trasferimento dell'associazione Avis da Via Marcone a Via Verdi, avrebbe delle incongruenze in una decina di punti, in particolare il danno erariale. Questi dubbi nascono da un parere legale chiesto dall'attuale amministrazione. Non è tardato un istante la reazione dell'ex sindaco su questa messa in discussione sulla legittimità della delibera Avis. Così, sui social, ha spiegato le ragioni. Mi sento chiamato in causa, in forza delle numerose voci circolanti in paese, riferitemi da più persone, in merito al trasferimento della sede Avis nei nuovi locali di proprietà della Croce Verde Fornovese, e prosegue, sperando il percorso fatto con le istituzioni. Il progetto di utilito della struttura dell'ex polo sanitario nasce da un accordo a tre soggetti, Comune di Fornovo, Azienda Sanitaria e Croce Verde Fornovese, con l'Avalo della Regione, con i seguenti impegni. Per l'Azienda Sanitaria, di vendere direttamente alla Croce Verde Fornovese, la quale si impegna a mantenere la proprietà, in quanto erga un servizio pubblico e di conseguenza viene considerato alla stregua di un ente locale. Per la Croce Verde, di destinare gli spazi all'ampiamento della propria sede e di mantenere la destinazione socio-sanitaria prevista dallo strumento urbanistico. Il Comune a mantenere anch'esso tale destinazione è a contribuire a sostenere il piano di ristrutturazione grazie al trasferimento di alcuni servizi pubblici quali l'Azienda ai servizi alla persona, ASP, il Centro per l'Impiego e l'Avis, la quale, quest'ultima, per mantenersi aperta, necessita dei requisiti strutturali idonei all'accreditamento previsto dalla Regione, requisiti di cui non gode l'attuale sede. L'attuale sede di Via Marconi, di proprietà del Comune, risulta in godimento all'Avis per 99 anni. La nostra Giunta ha creduto opportuno, anche con il parere negativo di alcuni responsabili, ma con il parere favorevole del Segretario, di assumersi la responsabilità personale di procedere con tale trasferimento per garantire la continuità di raccolta del sangue e sostenere contemporaneamente la Croce Verde Fornovese grazie alla corrisponsione di un canone di locazione con la previsione che, a fine contratto, l'Avis potesse, previo pagamento di una maxirata, diventare proprietà dell'immobile. E in merito alle elezioni su eventuali citazioni in giudizio, così prosegue l'ex sindaco. L'attuale giunta del sindaco Zanetti ha ritenuto di affidare un incarico per farsi rilasciare un parere da un legale che ritiene che tale operazione non si possa fare. Non è una sentenza, è un parere. Siccome l'entourage dell'attuale giunta riferisce nei bar e in altre sedi di volerci denunciare per ipotetici accordi di male affare con la Croce Verde, rispondo che, uno, non temo nessun giudizio, consapevole che, facendo il sindaco, mi sarei dovuto assumere anche responsabilità significative, ma soprattutto perché mi fido le parere del segretario comunale. Secondo, che prima di mettere in cattiva luce un'associazione della cui integrità sono più che certa, bisogna pensarci molto bene, che devono dire ai cittadini come intendono risolvere la questione Avis e Croce Verde Fornovese, considerato che la scelta di interrompere il trasferimento dell'Avis mette in serie difficoltà economica anche la Croce Verde Fornovese. E conclude, non c'è nulla da nascondere e mi permetto di scrivere tutto ciò perché le cose vanno fatte alla luce del sole, rendendosi poi disponibile sui social per chi volesse fare domande di approfondimento al problema. Insomma, un invito a chiunque ce l'abbia o tacche associazioni come questa. Al posto di attaccarle, diventate volontari anche voi perché c'è davvero molto bisogno. Tutte le associazioni del nostro territorio ma non solo sono in forte difficoltà e mancano davvero dei militi. Quindi basta polemiche verso queste associazioni ma sosteniamole con le nostre ore e con il nostro impegno andando a far servizio. Mi raccomando, un appello importante perché rischia davvero in diverse occasioni che non ci siano persone disponibili per venirci a soccorrere quando noi o i nostri familiari abbiamo bisogno. Andiamo avanti con la prossima notizia, parliamo invece di una bella notizia e finalmente è tornato il segnale che manda in tutto il Parmense il nostro telegiornale, il Tg Parmense. Ma vediamo cosa è successo, abbiamo anche un'intervista particolare. Una bella notizia a tutti i nostri telespettatori perché il nostro telegiornale ora è visibile di nuovo anche in televisione, non solamente sul nostro canale YouTube Tg Parmense e sulle nostre pagine Facebook così come sul nostro sito www.parmense.net ma anche in televisione. Finalmente il segnale del canale 88 è ritornato visibile in tutta la Valceno, la bassa Valtaro e fino a Parma e oltre così come nei territori di Fidenza, di Langhirano e anche tante altre zone della provincia di Parma ma anche in alcune zone del Lombardo. Nella mattinata di ieri, martedì 3 di dicembre, vi è stato l'intervento dei tecnici di radio tele a Pennino Parma ed Entella TV che si sono recati sul Monte Maggioras che danno posto fino al problema tecnico che ha oscurato per diversi giorni il segnale del nostro telegiornale. Ma non solo, infatti riparando lo stesso ripetitore hanno dato il via libera al ritorno del segnale di Entella TV canale 112 nel Parmense e l'invio del segnale di RT a Parma nel Genovese Abbiamo avuto modo di intervistare il capo dei tecnici che è intervenuto, Marco Pinat. Queste le sue parole. Siamo al telefono con Marco Pinat, il tecnico di radio tele a Pennino che ha ridato vita al nostro segnale nella Valceno in tutta la provincia della bassa parmense di Parma. Chiediamo come è stato l'intervento che avete portato a termine ieri. A che ora siete partiti? Cosa avete fatto per arrivare su una giarasca? Ieri mattina siamo partiti di buon'ora, poi ci aspettavano l'aerocadaveto i gestori degli impianti che si sono fatti salire fino al Monte Bue e poi dal Monte Bue al Maggiorasca a piedi perché c'è poca neve per sciare ma tanta per non poter andare su in macchina. Quanta distanza c'è tra gli impianti di risalita e il ripetitore? Ci sarà 800 metri, un pezzo di discesa e poi un pezzo di salita. Quindi ciaspole e pezzi di spalla? Ciaspole perché sì, essendo piovuto domenica scorsa era una lastra di ghiaccio quindi anche pericoloso era. Ah, cavolo. E l'intervento è durato molto? Cos'avete fatto? L'intervento mi ha dovuto portare su il ricevitore dallo studio al Maggiorasca e il trasmettitore dal Maggiorasca verso Parma. Quindi il problema dovrebbe essere risolto? Il segnale è stabile? In teoria sì, non abbiamo raggiunto il massimo, potrebbe essere che se gli abitanti di Santo Stefano si augurano la neve, venisse qualche giorno Liga Laverna, potrebbe mancare per qualche ora affinché poi si ripuliscono le antenne, ma è una cosa che poi prossimo primavera risolveremo. Ed ora qualche decina di secondi di pubblicità ma non andate via perché subito dopo si parla di una bella manifestazione, una manifestazione importante, gioiosa e ricca di vita che si è tenuta a Fornovo. La manifestazione per cui abbiamo fatto sì che i tecnici di Radio Teleappennino si muovessero per risolvere rapidamente questo problema perché volevamo che tutti i bambini di Fornovo potessero vedere le immagini della loro festa perché la festa dell'arbero è la festa anche dei bambini. La gioia e la vita che danno bambini e albero e alberi sono davvero impressionanti ma soprattutto sono due cose che danno la vita e il futuro a tutti noi. ElettroTaro Fornovo un negozio moderno di televisori, frigoriferi, elettrodomestici e tanto altro. Ottimi prezzi a due passi da te anche dopo la vendita. Se serve aiuto veniamo anche a casa tua. Ci trovi in via nazionale 127 Fornovo Taro telefono 0525 2590 Uno dei castelli più belli d'Italia in uno dei borghi montani secondo la CNN più belli del mondo. E tu lo hai mai visto il castello di Bardi? Panificio Fani Sforniamo pane ma non solo dal 1990 ci trovate a Fornovo Medesano Varano Morano chiamaci e venici a trovare ti aiuteremo a trovare una soluzione adatta vieni da Elettro Taro si trova in via nazionale 127 Fornovo il numero di telefono è 0525 2590 Come dicevamo vita e gioia sono due cose che vanno di pari passo e la vita e la gioia che danno i bambini è incontenibile peccato che ce ne siano sempre di meno nel nostro paese sempre più vecchio e sempre meno desideroso di aver figli però in qualche occasione è bello poter godere della gioia e dell'allegria dei bambini peraltro in un contesto di amicizie di amore verso l'ambiente infatti qualche giorno fa si è tenuto la festa dell'albero a Fornovo vederanno davvero tanti gioiosi e allegri bambini di Fornovo ma non solo che sono intervenuti in questo importante appuntamento vi lasciamo al bel come sempre servizio del nostro Cesare Groppi è la giornata dell'albero alle scuole di Fornovo Taro un melograno e un gelso nel prato delle elementari di via Marconi nello spirito della salvaguardia della natura di noi stessi Piantare gli alberi è importante perché ci regalano l'ossigeno perché depurano l'aria perché contrastano l'inquinamento la festa dell'albero ha questo senso ma a voi piacciono gli alberi Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì perché alcune volte gli alberi tipo quando ci sono delle tempeste ci aiutano per sopravvivere a queste tempeste beh diciamo che hai dato una buona risposta brava si staccano esatto qua dietro qualcuno che è dietro che magari non riesce a parlare perché ci regalano il leno che ci fa riscaldare ah quindi gli alberi scaldano anche ma rinfrescano gli alberi? si ah fanno anche fresco scusatemi ma cosa mangiano gli alberi? i sali minerali sali minerali bravissimi quindi voi cosa dovrete dare alle due piante che pianteremo traumati eh qui bisognerà fare un incarico del giardiniere della scuola maestri le maestri hanno una cosa in più adesso ma facciamo vino con l'andride e con il carbonio che lo diamo noi ah giusto a me piacciono gli alberi perché sono rifugio per gli animali ah questa è una cosa bellissima sono rifugio per gli animali sono messaggi importanti in arrive dalle scuole che ci insegnano a crescere nel rispetto dell'ambiente in cui viviamo e non essere costretti a farlo solo quando la natura si arrabbia questa scuola primaria sta lavorando sul cambiamento climatico sulla consapevolezza delle emergenze ambientali che sono sotto i nostri occhi e l'invito a partecipare anzi a costruire insieme un piccolo momento di festa intorno all'albero per i più piccoli un momento gioioso per i più grandi è stato un momento di studio è stato accolto con grande entusiasmo il risultato adesso torna un po' di terra la raccogliamo da qua la schiazzate un po' dai mi è andata là un po' di questo un altro appuntamento gioioso allegro c'è stato ieri sera in quel di Collecchio a Lemignano vediamo che cosa è successo dalla Valceno fino al Kenya passando da Collecchio questo è il lungo percorso della solidarietà ieri sera martedì 3 dicembre a Lemignano di Collecchio al Time Out si è tenuto un evento di solidarietà organizzato da Amurt un'associazione che raccoglie fondi per aiutare le popolazioni più bisognose l'obiettivo in questo caso era di aiutare più di mille bambini che vivono in un quartiere malfamato di un'importante città del Kenya tante le persone presenti che mangiando pizza gustando dolci bevendo buon vino e partecipando a una simpatica riffa hanno potuto dare il loro contributo di solidarietà ad intrattenere il numeroso pubblico musicisti e cantanti che arrivavano dalla Valceno da Varsi in particolar modo infatti erano presenti sia il coro Montedosso che i cantori di Varsi il moderno cittadino locale del comune di Collecchio si è trasformato per alcune ore in una calda ed accogliente baita di montagna questo è il clima che hanno trasmesso musicisti e cantanti incantevole piacevole e coinvolgente il canto della Corale Montedosso musicisti musicisti fortemente coinvolgente allegro l'esibizione dei cantori di Varsi e non sono mancate persone che si sono lanciati in sfrenati balli ma vi lasciamo ad alcune immagini e ad alcune musiche della bella serata nei prossimi giorni anche l'intervista al segretario generale di Amurt musicisti ed eccoci alla consueta pagina delle previsioni del tempo vediamo quali sono le previsioni per i prossimi giorni la notte più rigida di questi giorni sarà proprio quella che separerà la giornata di giovedì a quella di venerdì stanotte le temperature arriveranno massimo attorno allo 0 gradi ma domani mattina la temperatura arriverà a toccare meno 1 nella zona di bassavalle con lecchio a 112 metri sul livello del mare Fornovo e Medesano 158 e 135 metri sul livello del mare ma più o meno le previsioni simili sono anche a Varano-Melegari tempo sereno e poco nuvoloso per entrambi i due giorni sia giovedì che venerdì come potete vedere una copertura nuvelosa dovrebbe iniziare ad arrivare nella serata tarda notte di venerdì 6 per la giornata di venerdì temperature comprese tra i 2 gradi e gli 8 gradi saliamo di livello arriviamo nella zona di Bardi 625 metri sul livello del mare vedete il meteo di Bardi per ciò che riguarda la giornata di domani il 5 dicembre temperature comprese tra i meno 3 e i 5 gradi con la punta minima che sarà è prevista attorno alle 7 della mattina 2,7 gradi sotto 0 un cielo prevalentemente sereno poco nuvoloso dal passaggio di qualche nube sparsa nella giornata di domani lo stesso nella giornata di venerdì dove le temperature sono in leggero aumento meno 2,7 gradi per la zona di Bardi andiamo avanti con l'ultima pagina che è quella che riguarda Bore il paese più alto del territorio di cui ci occupiamo 835 metri sul livello del mare ma è anche poi l'altezza simile a quella di Pessole e di altre zone del nostro appennino ovviamente più ci sale più la temperatura cala come possiamo vedere da queste immagini infatti per la giornata di domani quindi nelle prime ore di domattina la temperatura è prevista attorno ai meno 4 gradi e domani a Bore la temperatura non diventerà più alta di 4 gradi centigradi meno 4 gradi che verranno toccati sempre attorno alle 7 della mattina temperature in aumento per la giornata di venerdì comprese tra i meno 3 e i 9 gradi una temperatura che sale come potete vedere la temperatura più bassa attorno alla luna di notte poi a partire dalle 2-3 la temperatura inizia a salire infatti è previsto un trend di aumento delle temperature come vedete fino ad arrivare a domenica sera da qui di nuovo un calo delle temperature su tutto il territorio per ciò che riguarda Bore anche in questo caso bel tempo nubi sparso poco nuvoloso sia nella giornata di giovedì che nella giornata di venerdì 6 dicembre insomma queste le previsioni per i prossimi due giorni ci rivediamo poi nella giornata di venerdì sera per le previsioni del fine settimana quindi freddo ma bello con una possibilità di aumento delle temperature e poi un ritorno alla settimana prossima con un nuovo calo delle temperature abbiamo visto nel servizio precedente la neve nelle zone più alte del nostro appennio sul monte Maggiorasca una neve che è caduta oramai due settimane fa vediamo se è prevista neve per i prossimi giorni passiamo quindi la settimana prossima mercoledì giovedì della settimana prossima con vedete nelle zone più alte qua abbiamo preso in considerazione la zona di Bore quindi 800 metri sul livello del mare sembra che possa arrivare pioggia mista neve nella giornata di venerdì 13 sabato 14 domenica 15 anche poi nella giornata di lunedì ovviamente le previsioni a lungo termine hanno un'attendibilità molto molto bassa vedremo effettivamente se poi le previsioni saranno quelle che vengono dette ad oggi ma l'attendibilità ribadisco oltre i 2-3 giorni è davvero molto molto bassa torniamo ad occuparci delle aziende del nostro territorio quel territorio che parte da Bardi e arriva fino a Collecchio Medesano quindi dalla Valceno fino alla Bassavaltaro abbiamo parlato nello scorso telegiornale di un'azienda di Collecchio la Valfer parliamo di un'altra azienda di Collecchio oggi la Cedacrino una delle aziende del territorio che è posizionata nella parte più alta della classifica all'undicesimo posto delle aziende top 500 a Parma quelle che sono state raccontate grazie all'inserto del quotidiano locale stiamo parlando come diciamo della Cedacrino un'azienda che si occupa di tenere la contabilità e di fornire servizi a tantissime banchi italiane un'azienda che però cede una posizione è passata infatti dal decimo posto del 2017 all'undicesimo del 2018 secondo i dati depositati in Camera di Commercio in fase di presentazione dei bilanci anche il fatturato è calato ed è passato da 310 milioni a 300 milioni di euro se il totale attivo cala di circa 40 milioni di euro il patrimonio netto però cresce di 4 milioni di euro e passa dai 61 milioni del 2017 al 64 del 2018 un'altra cosa in crescita fortunatamente ed è una delle cose più importanti è il numero dei dipendenti che passano da 1.562 del 2017 e 1.596 del 2018 utile in calo con un calo di circa 20 milioni di euro dai 26 milioni di euro del 2017 si è passati si è scesi ai 6 milioni di euro azienda comunque davvero importante con importanti numeri che genera tantissimi posti e opportunità di lavoro per tantissimi con le chiesi ma anche per tanti abitanti di tutto il territorio che ci occupiamo ma anche i cittadini che vivono in città a Parma